Wabalabadabdabe, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica serie tv e bentornati nella rubrica Marvel perché nessuno ha ancora parlato di Hitmonkey, la serie animata che potete trovare su Disney+. Per chi non lo sapesse, Hitmonkey è appunto una scimmia che è anche un assassino di assassini, è una sorta di mercenario, se così vogliamo dire, ma solo di persone cattive, solo di persone che hanno ucciso e sì, è una scimmia in giacca e cravatta. So che le origini possono sembrare davvero strane persino per la Marvel, però c'è un senso a tutto. No, beh, in realtà non c'è un senso, però è molto carino da vedere, è molto sopra le righe, se servisse dirlo, e lo potete trovare anche nei fumetti. Io, per esempio, ho scoperto questo personaggio in Deadpool serie Oro, tutto quello che può fare un ragno, dove il nostro Deadpool ha un team-up con l'uomo ragno ed entrambi affrontano Hitmonkey. In questo stesso numero, che vi metto anche qua sotto in descrizione così potete acquistarlo, si trovano le origini sempre di Hitmonkey, che sono tra l'altro molto simili a quelli visti nella serie tv. La serie tv è molto fedele a quello che si può leggere in questo fumetto. Io l'ho conosciuta solo in questo fumetto Hitmonkey, non ho altre fonti letterarie da cui posso trarre le mie conclusioni, però ecco, è molto fedele a come viene trattata in questo fumetto, è anche molto fedele la serie come stile di narrazione alla visione che ha Deadpool del mondo, ovvero la serie è molto scorretta, il linguaggio scurrile non si spreca, ci sono un sacco di fuck, 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 cose che in una serie tv americana normalmente non si possono dire, ma qui complice anche il fatto che viene veicolata da una piattaforma di streaming e non su un canale televisivo, quindi non ci sono molte regole, e chiaramente sarà sicuramente inserita nella sezione star della Disney, ovvero quella un po' più per adulti. Anche perché, oltre alle parolacce, ci sono anche delle scene molto molto esplicite, questa, e parlo di violenza ovviamente, questa serie tv sicuramente se fosse stata in live action avrebbero dovuto affidarla a Sam Raimi, peccato che si sta già occupando di Doctor Strange 2, oppure a James Gunn che ha fatto un lavoro egregio con The Suicide Squad e con la serie tv Peacemaker, che in quanto violenza è alla pari più o meno. Però ecco, è una serie animata. Devo dire che nonostante sia una serie animata, alcune scene fanno comunque abbastanza raccapriccio, anche perché non te le aspetti. Soprattutto le prime non te le aspetti da una serie animata. Vedere certi sbudellamenti, certi squartamenti. è molto 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 esplicita e questo stranamente è un valore aggiunto a questa serie perché ti fa capire che non si sta trattenendo assolutamente. Purtroppo non credo sia a tutti gli effetti una serie canon. Questo perché? Perché a un certo punto nel finale della serie, non è uno spoiler perché tanto non è fondamentale per la trama, però nel finale della serie introducono un personaggio e lo chiamano apertamente mutante. Ora, quindi vuol dire che in questo universo si sa cosa sono i mutanti, sono già una cosa normale, eccetera, eccetera. A parte che io sono dell'idea che Multiverse of Madness potrebbe involontariamente, perché la Marvel non è così brava, ma involontariamente spiegare molte cose. E quindi magari questa serie potrebbe diventare canon. Però ad oggi Hitmonkey non può essere considerata tale perché nel Marvel Cinematic Universe non usano il termine mutante, non sanno cosa sia un mutante, eccetera, eccetera, eccetera. È pur vero che è ambientata a Tokyo, quindi può essere che i giapponesi definiscano mutante una persona con i superpoteri. Questo non lo sappiamo. Non è comunque, dicevo, non è importante per la trama, era solo una chicca che volevo darvi. Per quanto riguarda invece la scimmia, il protagonista dal momento che non parla, non si esprime, non è una scimmia parlante, e sono felice che abbiano mantenuto questo stile esattamente come nel fumetto, perché se no l'avrebbero umanizzata troppo, avrebbe diminuito il fattore irrealistico di una scimmia che fa cose da uomo. Sarebbe stata troppo antropomorfa. Invece in questo modo hanno mantenuto la stranezza. Però come fanno per farla interagire con gli altri protagonisti? Hanno inserito un personaggio di supporto che fondamentalmente è il collegamento tra la scimmia e lo spettatore. Questo personaggio di supporto è Bryce, l'assassino che anche nel fumetto va fondamentalmente a rovinare la quiete della tribù della scimmia protagonista, va a rovinare la quiete di questa tribù e questa scimmia impara un po' da questo assassino, finché questo assassino non viene appunto trovato da una serie di criminali che lo stavano cercando e viene assassinato in questa zona dove viveva la tribù delle scimmie. Viene assassinato insieme a tutta la tribù delle scimmie e di conseguenza è qui che ci sono le origin story di Hitmonkey, ovvero la scimmia assassina vuole vendicare la sua tribù perché è stata brutalmente assassinata. Quindi giura vendetta a tutti gli assassini. Il personaggio di Bryce, questo assassino, una volta che viene assassinato da queste persone compare di nuovo come fantasma. Lui stesso si definisce Slimer o Patrick Swayze di Ghost e fondamentalmente questa è la voce narrante, la voce nella testa, se vogliamo essere... non lo so, vogliamo trovargli un titolo, di questa scimmia, quindi permette di... innanzitutto permette di capire meglio le intenzioni della scimmia e poi so che sembra assurdo, ma il fatto che ci sia un fantasma a insegnare alla scimmia quello che sa fare ha più senso del fatto che la scimmia impari da sola. Perché se nel fumetto aveva imparato alcune tecniche di lotta e di utilizzo delle armi da Bryce quando si stava allenando, quando era in vita, è comunque troppo poco tempo. Qua invece abbiamo un Bryce che lo... fondamentalmente lo allena, gli fa da mentore per tutto il suo percorso d'assassino. Poi sì, è un fantasma, quindi è fuori da ogni logica, però è coerente, diciamo, è più coerente che non quello che abbiamo visto nel fumetto. Poi ecco, ripeto, io l'ho letta solo qua dentro dove c'è l'origine della scimmia e un'avventura con Deadpool. Non so se ci sono stati altri numeri dove effettivamente appare il fantasma di Bryce. Se lo sapete, scrivetemelo qua sotto e magari mettetemi anche il link del fumetto così lo vado a recuperare, lo leggo e magari ne parliamo in una live. Si può fare eventualmente. Come se non bastasse, questo Bryce ha una parlantina che non ha nulla da invidiare a quella di Deadpool. È esattamente sboccato, volgare, ignorante se vogliamo, facile alle distrazioni, quindi che può parlare di cose di piccolezze che non c'entrano nulla e fanno assolutamente ridere. Tutto questo ci conforta e quantomeno per chi ha letto questa storia può ricordare la presenza di Deadpool in una storia dove c'è Hitmonkey. Peccato dal momento che appunto al momento questa storia non è canon e parlano tranquillamente della presenza di un mutante a questo punto potevano inserire tranquillamente Deadpool. Però lo so che non vogliono sganciare subito le bombe così grosse in una serie che toglierebbe assolutamente il focus al protagonista. Non ha assolutamente senso. Se lo fanno, lo fanno magari negli ultimi episodi come abbiamo visto in Hawkeye dove hanno mostrato Kimping in un episodio. Però è inutile fare una serie su Hitmonkey se c'è Deadpool per tutto il tempo. Ovviamente non avrebbe avuto senso. Però ci sarebbe potuto stare. Se la serie avrà un sequel e se nel frattempo Deadpool verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe allora sarebbe bello vedere Hitmonkey interagire con gli altri eroi della Marvel, del Marvel Cinematic Universe sempre appunto che diventerà canon questa serie. Dal punto di vista dei disegni mi ha ricordato molto una versione un po' semplificata di What If quindi mantengono comunque lo stile di disegno che hanno mantenuto nell'altra serie animata per questo mi viene da pensare che potrebbe diventare canon molto facilmente. E ne sono rimasto molto entusiasta. Io non sono stato un grande fan del disegno di What If e so che tutti l'hanno apprezzato a me non è che è piaciuto molto il disegno di What If. Ho visto di meglio in realtà. Cioè è molto bello ma con qualche remora che non sto qui a dire. Qua ovviamente lo hanno semplificato. non credo neanche ci fosse un intento di innovare chissà che cosa dal punto di vista grafico però questo stile è bastato per rendere il tutto ancora più realistico quando si vedono delle scene splattere. Quindi questo ha reso il tutto un po' più serie tv e un po' meno cartone animato. Fatemi sapere voi se l'avete vista. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace a questo video un non mi piace quello che volete di condividere il video con tutte le persone che hanno visto questa serie e di commentare qui sotto con quello che venne è parso di questa serie e se invece se non l'avete vista fatemi sapere se ve lo fate scoprire la trovate su Disney Plus fatemi sapere se vi sarà piaciuta. Vi ringrazio ancora e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.